addio mamma margherita da qualche tempo era morta mamma margherita 25 novembre 1856 ma don bosco sempre la ricordava con viva commozione un giorno del 1860 la rivide in una visione fugace ma consolatissima era tutta agile e sorridente ed egli le disse o madre voi qui ma non siete dunque morta si sono morta rispose la madre ma vivo siete felice felicissima in paradiso in paradiso quantunque sia passata per le fiamme del purgatorio vi sono dei nostri giovani in paradiso si tanti e ne nominò parecchi e che cosa si gode lassù tu mi chiedi l'impossibile perché ciò che si gode quassù nessuno mai lo potrà né dire né esprimere improvvisamente fu avviluppata da una luce di inesplicabile bellezza ed esclamò giovanni ti aspetto per restare sempre uniti disparve nell'armonia d'un canto di voci angeliche don bosco raccontando ai suoi figlioli questa visione diventava come ispirato e finiva sempre con ripetere o la rivedrò sì la madre mia e la vedrete anche voi se saremo perseveranti nel servizio del signore coraggio dunque allegri e mai peccati